Se hai un negozio fisico oppure gestisci i social della tua attività, non puoi non considerare la piramide della consapevolezza. Grazie alla piramide della consapevolezza abbiamo di fronte tutte le varie possibilità nelle quali il nostro cliente si può trovare quando entra nel tuo negozio oppure quando entra nel tuo account Instagram. Ci sarà quel cliente che ha consapevolezza del problema ma non sa che ci sono soluzioni, ancora diverso sarà chi ha consapevolezza del problema, sa che ci sono soluzioni ma non sa che tu le hai, fino ad arrivare a quei pochi clienti che saranno in alto, quelli pochi, che sono consapevoli del fatto che tu sia la soluzione migliore ma gli basta soltanto una piccola rassicurazione per convertirsi. Quindi è chiaro che se dobbiamo creare un post oppure abbiamo di fronte un cliente che è quasi lì che compra, ci sarà un tipo di post. Quelli invece che sono alla base della piramide non sanno neanche di avere questo bisogno, ovviamente a loro si creerà un altro tipo di contenuto. È molto utile usare la piramide della consapevolezza per creare il proprio calendario editoriale social media. Ovviamente noi possiamo costruire dei post solo finalizzati ad ognuno di questi, cioè un post per ogni livello di consapevolezza. Le slide che ho appena proiettato sono di Massimo Petrucci che è il mio formatore, il mio primo formatore dal quale ho imparato la maggior parte delle cose che so oggi. Che saluto tantissimo nel mese del suo compleanno, ovunque tu sia, Massimo, grazie mille per tutto quello che hai fatto per noi. Ci manchi tantissimo.